James ha preso la palla di Leo e non gliela vuole restituire. E questo non è un problema. All'età di due anni, il bambino attraversa quella che gli psicologi definiscono la fase della formazione dell'io, durante la quale il piccolo stabilisce la percezione di sé. Una volta soddisfatto questo bisogno, il bambino inizia a capire che è circondato da altre persone la cui esistenza va altrettanto riconosciuta. Se il genitore insiste che il figlio condivida i giocattoli senza sostenere il suo naturale egocentrismo, il bambino potrebbe cercare questo stato d'animo per il resto della sua vita. Questa fase è caratterizzata dall'uso delle parole io, me e mio. A questa età il bambino crede che tutto appartenga a lui. Quando i genitori sostengono in modo corretto il proprio bambino, questa fase non è complicata e dura poco.